La grande musica live dei playlist Pesaro torna in città dal 2 gennaio al 19 maggio 2023. Una non edizione che si distribuirà in 14 appuntamenti fra teatro sperimentale e chiesa dell'Annunziata con a recuodo le Abundant Life Gospel Singers ad aprire le danze il 2 di gennaio. Il 7 poi arriverà a Pesaro Paola Turci con un monologo teatrale con canzoni e a far parte della ricca offerta promossa da Comune Amat anche Filippo Graziani, NADA, Marlene Kunz, Clepio Renz e IEA mentre la serata conclusiva del 19 maggio sarà affidata ad Angelo Branduardi con confessioni di un malandrino. La playlist da 9 anni raccoglie tutta la musica possibile. Lo fa sia riproponendo volti noti e conosciuti, insomma penso al progetto di Paola Turci con cui il 7 gennaio sostanzialmente iniziamo dopo il debutto con il Gospel fino alla chiusura con Angelo Branduardi. L'invito a NADA con un nuovo progetto molto interessante, un talento eclettico davvero della nostra scena l'arrivo dei Marlene Kunz con l'ultimo progetto ma lo fa anche soprattutto attraverso delle reti di complicità, così lo definite quelle ad esempio che abbiamo con Black Marmalade che non è solo un negozio di dischi ma un presidio culturale in qualche modo a Pesaro andando a scoprire dei progetti sia territoriali sia a livello nazionale che hanno questa capacità di sentire il presente e di saperlo tradurre in un segno musicale così come l'invenzione di un nuovo festival, un nuovo micro festival che abita dentro il nostro programma Algebra delle Lampade, un primo festival di musica elettronica è la curiosità, lo sprone, lo strumento in cui abbiamo composto questo progetto Algebra delle Lampade